Musica Ancora disagio al CUP, centro unico delle prenotazioni dell'ospedale di Sciacca. Lunghe file e malumori davanti gli sportelli già da mesi e negli ultimi giorni la situazione è anche peggiorata. Diminuito il numero di sportellisti tra pensionamenti e ferie e ieri si sono registrati attimi di tensione tra i tanti in attesa di sbrigare le proprie pratiche. Le immagini che vi mostriamo ci sono state inoltrate da un telespettatore indignato. Con l'ennesima segnalazione sul caso che riportiamo si spera che la direzione dell'ASP intervenga al più presto. Non il massimo dell'accoglienza per i piccoli studenti tornati in aula alla scuola primaria Giovanni XXIII di Via Catusi. Tra le bandierine e i festoni non si poteva non notare l'erbaccia ovunque. Diversi genitori hanno lamentato le condizioni poco dignitose degli spazi esterni all'edificio. Bastava poco ma la pulizia di queste aree è da sempre stata oggetto di polemiche. In passato gli stessi genitori si sono sbracciati le maniche e hanno ripulito il perimetro della scuola. Parcheggio nelle vicinanze annesso pur di restituire dignità e decoro agli spazi in cui transitano i bambini per una questione anche di sicurezza. Per evitare assembramenti all'entrata e all'uscita da scuola si sta usufruendo oltre che dell'ingresso principale su Via Catusi anche di quello laterale e nel tragitto che dal parcheggio conduce alla sede scolastica oltre alle erbe spontanee e rigogliose si trovano vetri rotti ed altri rifiuti. Il nuovo anno scolastico sotto questo aspetto non sembra affatto essere differente dunque dai precedenti. Altra zona, altre segnalazioni. Ci spostiamo in contrada Isabella con un'altra vecchia questione che i residenti continuano a segnalarci. Quella riguardante i cani randaggi. C'è chi giornalmente porta loro del cibo ma nel farlo crea altri disagi lasciando ad esempio sul posto le scatolette. La questione dei randaggi è un altro grosso problema cittadino che rimane irrisolto. I cani si riproducono e a loro si aggiungono altri che continuano ad essere abbandonati. Fanno branco e chi porta loro del cibo li porta a stazionarsi in determinate zone che sono abitate. I residenti sono stanchi e spaventati. Le condizioni igieniche nei pressi di Via delle Sequoie non sono delle migliori e chi abita in zona chiede alle forze dell'ordine di intervenire. Rimanendo in zona non possiamo non parlare di acqua dall'erogazione che continua ad avvenire una sola volta a settimana alla sua dispersione per le strade. Sono note le difficoltà al momento relative agli interventi e alla manutenzione delle reti idriche ma quella in Via Ghezzi è un'emergenza. Le immagini parlano da sole, una perdita idrica notevole ha bisogno di essere sistemata il prima possibile. Non è la sola presente lungo l'arteria ma è evidentemente quella da cui sgorga maggiormente acqua. Si spera che possa essere riparata nell'immediato.